E qui ce l'abbiamo nuovamente, un altro giorno, un altro scudo solare. Il sole non c'è ed ancora una volta a 1.30 del pomeriggio è completamente soffocato dalle nuvole che lo bloccano, bloccano la luce del sole ancora una volta. Non è una coincidenza che accada ogni singolo solitario giorno e non c'è nemmeno da discuterlo oltre perché ci hanno già detto di quello che stanno facendo. Questo non è di certo un sito di cospiratori. Questo è il sito dell'Università di Harvard. Questa informazione è stata diffusa da parecchio tempo, come qualsiasi altra cosa, dal governo, dalla scienza di questi effetti. Lo stanno facendo da due decenni, lo stanno semplicemente ampliando. Quando parliamo del problema del clima che qualche volta non viene apprezzato dalle persone è il periodo di tempo. Il fatto è che le enormi quantità di carbonio che vengono introdotte nell'atmosfera rimarranno la migliaia o se non decine di migliaia di anni da adesso. Ma un'altra cosa del periodo di tempo del cambio climatico è il lungo tempo del sistema di energia che la nostra società ha costruito. Cambiare il nostro sistema di energia basato sul carburante fossile, come oggi con un sistema di energia non fossile, richiederà perlomeno diversi decenni, probabilmente molto più di un secolo e decine di trilioni di dollari. Questo solo per gli Stati Uniti. I numeri sono semplicemente impressionanti. Molti di noi che hanno osservato il sistema di energia mondiale e il sistema climatico hanno il sentore che in realtà potremmo non essere in grado di cambiare il sistema di energia in grado per evitare conseguenze peggiori del cambio climatico. E questo è il motivo per cui la geoingegneria solare penso sia una cosa importante da guardare con molta attenzione. Dove non c'è il sole? Dove c'è il sole? È come una vera coperta di fronte al sole che lo blocca completamente fuori. Questo andrà ad avere degli effetti molto prima che le persone possano capirlo. La geoingegneria solare fa riferimento ad una serie di tecnologie in grado di permettere all'umanità, a ragion veduta, di incrementare la riflessività del pianeta, riflettere via la luce del sole e compensare quei cambi di temperatura e i cambiamenti climatici che derivano dall'accumulo del diossido di carbonio. Questo non sostituisce il taglio delle emissioni. Se vogliamo un clima stabile alla fine dobbiamo portare l'emissione a zero, ma è un potente supplemento in grado di ridurre il rischio del cambio climatico perché non possiamo abbassarlo semplicemente tagliando le emissioni. Ci permette di abbassare le temperature estreme, quelle che causano veramente intersofferenze all'uomo, morti per le onde di calore, perdite dei raccolti che potrebbero causare veri danni alle persone più povere, riduce gli eventi di precipitazione estreme, si tratta di grandi bufere che sono le più pericolose del cambio climatico. Quindi i benefici della geoingegneria solare riducono il rischio climatico, riducono perdite delle coltivazioni, aumenti del livello del mare, un valore dell'1% del prodotto lordo globale. Sorprendentemente la geoingegneria può essere molto economica. Voglio ricordarvi ancora una volta che questo non è qualcosa di scientifico che stanno facendo da soli, hanno il supporto completo di tutti i governi mondiali dietro di loro perché non hanno l'abilità di fare questo senza aerei, gli equipaggiamenti, i militari e tutto il resto a loro disposizione. Stanno facendo questo da due decenni, sono loro la causa degli uregani, dei tornado e tutti gli altri tipi di meteo perché stanno facendo questo da due decadi. Semplicemente perché voi guardate i notiziari come fonte di informazioni, non fa di voi persone ben informate. Alcuni di noi lo stanno gridando da molti e diversi posti da anni ed ora siamo arrivati ad un crescendo da rabbrividire. Se non sapete di che cosa sto parlando non fa di me un idiota. Chiudo. Grazie a tutti.